Buonasera, ben ritrovati, è un piacere inaugurare la nuova stagione con un'opera tanto famosa come Aida, una festa per la musica nel segno di Verdi, è una festa della cultura anche grazie alla collaborazione fattiva e molto efficace che si è instaurata con il Museo Egizio, in occasione proprio della riapertura di questo gioiello della nostra città che il teatro ha deciso di programmare questo titolo, è una festa per lo spettacolo perché abbiamo un allestimento molto blasonato che porta la firma di un regista a premio Oscar e Leone d'Oro alla carriera come William Fritkin con scene e costumi bellissimi di Carlo Diappi. Qualcuno di voi forse l'ha visto dieci anni fa, credo che valga la pena rivederlo comunque, è sicuramente una delle produzioni più importanti del teatro negli ultimi anni. Sul podio non poteva non essere che Gian Andrea Noseda, direttore musicale del teatro, che al Verdi Maturo ha dedicato tante produzioni, non solo qui ma in tutto il mondo e che lo rendono oggi obiettivamente uno degli interpreti più prestigiosi del repertorio di Verdi. Sul palco vi segnalo soltanto il debutto al regio di Christine Lewis, soprano americano che debutta appunto nel nostro teatro ma che ha cantato molte volte Aida, ha cominciato a farlo proprio nel teatro che ha segnato la creazione dell'opera al Cairo e da allora negli ultimi quasi dieci anni lo ha cantato in tutto il mondo. È doveroso ringraziare anche Intesa San Paolo che ha rinnovato la sua partnership sulla produzione inaugurale e appunto il Museo Egizio che anche in virtù di questa collaborazione potremmo avere qui stasera l'intervento di un egittologo accanto a quello più consueto per questa sala di un musicologo. Ho detto appunto che Aida è un'opera molto famosa, patisce però ancora il fatto che questa celebrità sia legata a uno dei brani più famosi della storia dell'opera, La Marcia Trionfale e questo è anche un limite forse nelle aspettative di chi viene a vedere l'opera perché Aida non è solo La Marcia Trionfale, Aida non è solo opera di grandi masse ma è un'opera che rivela anche aspetti più intimistici, ambientazioni quasi cameristiche e quindi negli ultimi anni si è messo molto in evidenza anche questo aspetto, è un'opera che vive di contrasti appunto da questo punto di vista. Ce ne parlerà il professor Antonio Rostagno che ci ha raggiunto da Roma dove insegna all'Università la Sapienza che nel indagare questo carattere binario dell'opera di Aida ha ricostruito nella filigrana, nella struttura dell'opera e delle scelte musicali compiute da Verdi quello che è lo sguardo di Verdi sulla realtà politica del tempo dell'Italia intorno al 1870. Non vado oltre perché sarà lui a spiegarvi quella che trovo una lettura molto affascinante e che peraltro potrete ritrovare anche nel volume di sala. Lo affianca Enrico Ferraris che è appunto egittologo, uno dei curatori del Museo Egizio e che è stato un po' protagonista, insomma è referente principale di questa collaborazione dal punto di vista così dei contenuti e per cui è stato naturale coinvolgerlo anche in questa sede e sulle origini di Aida, sul legame di Aida con la storia dell'antico Egitto ci dirà delle cose molto interessanti. Non gli rubo altro tempo e quindi invito a salire sul palco sia il professor Rostagno sia Enrico Ferraris che mi hanno fatto la sorpresa di entrare da dietro. Molte grazie e vi lascio la parola per quello che credo sarà un viaggio interessante nella storia. Grazie a tutti voi per essere intervenuti. Buonasera naturalmente. Allora, entro subito nel vivo del argomento perché Aida è una delle 4-5 opere più eseguite statisticamente, insieme a, potete immaginarlo tutti, insieme a Carmen, Bohème, Traviata sono tra le più eseguite da sempre, da quando è nata. Si pensa che Verdi abbia avuto grande successo, lui vivente, e invece è stato molto discontinuo il successo di Verdi. Ben, Aida invece è stato un successo da subito, per una lunga serie di motivi anche contingenti, nel senso che è stata preparata con grande enfasi e dibattaggio pubblicitario a livello veramente planetario. Bene, cosa ha di particolare in Tanna? Ne ha tantissime cose particolari. Quest'opera è stata, al momento in cui è uscita, è arrivata in Italia nel gennaio del 1872, cioè l'anno dopo, la prima del Cairo, è stata da Verdi considerata come la vera prima, quella in Italia, perché avrebbe dovuto essere a Parigi, Parigi era, come forse ricorderete, aveva un momento difficile nella sua storia, aveva appena subito l'occupazione delle truppe prussiane, e la prima quindi andò a finire alla scala, a Milano. Particolarità di quest'opera, Verdi ormai era un drammaturgo maturo, era un drammaturgo più o meno sui 60 anni, poco prima, pienamente affermato, era il più grande compositore di teatro del momento. Sì, c'era già Wagner che aveva già superato anche lui i suoi, scusate se uso questo termine non suo, aveva già superato anche lui i suoi anni di galera, ormai era affermato anche Wagner. Wagner, però come ben potete immaginare Verdi aveva un successo diciamo più interculturale, un po' dappertutto. Bene, quindi è un compositore che ha il mondo nelle sue mani, ha piena coscienza dei suoi mezzi espressivi e ambisce a forme di teatro molto complesse. Pensate, poco prima c'è La forza del destino, c'è Simone Boccanegra, che poi viene rifatto dieci anni dopo, sono opere che se ve le raccontassi non mi basterebbe un'ora, perché sono molto complesse le trame. E invece di Aida è una semplicità estrema, ve la racconto in due minuti. C'è una ventenne bella figliola di colore etiope, innamorata di un bell'uomo valoroso che si chiamerà da me, se lo sapete tutti, e questo amore è contrastato dal fatto che appartengono a due popoli. Sappiamo sin dall'inizio come andrà a finire. È l'ennesima declinazione, l'ennesima ripetizione di una storia raccontata mille volte. Quella di un amore tra due giovani bellissimi e superiori, che sin dall'inizio è condannato questo amore a finire male. Non c'è niente, non succede nulla, nulla, che non possiamo prevedere sin da quando apprendiamo queste premesse. E poi c'è la principessa Amneris, che anche lei è giovane, e i tre protagonisti sono giovani, cioè le tre vittime sono giovani, che si intromette in questo, ma si intromette, ma alla fine vedremo che anche lei è sconfitta come tutti gli altri, cioè i tre giovani, giovani, sono i tre sconfitti. Da chi? Da qualcuno, un antagonista, c'è l'antagonista forte. E' lì, è questo scontro tra un antagonista e le vittime che interessa Verdi. Non gli interessa la trama, è talmente semplice, che un drammaturgo ormai maturo come Verdi, ma possiamo credere che davvero si sia interessato a una trama così esile? Non è questo che interessava lui. Evidentemente c'è qualche cosa sotto. A Verdi non interessa esporre una trama drammatica, teatrale, ma gli interessa un messaggio. Un messaggio a tanti punti, a tanti livelli, e guardate che anche questo luogo comune, non lo voglio ripetere, del Verdi bate del risorgimento, Verdi maestro della rivoluzione, non è questo in questo momento storico che interessa a Verdi. È qualcosa di più profondo, è qualcosa che possiamo chiamare civile, ma io vorrei chiamare, scusate se anche questo è un termine forse inflazionato, vorrei chiamare proprio morale. Ossia la differenza tra etica e morale, in questo caso morale è la parola giusta, perché coinvolge il comportamento di tutta una comunità, non solo dell'individuo. cerchiamo di arrivare a capire come. È molto complessa, mentre la trama è molto semplice, questo discorso di Verdi è molto complesso, ma anche molto chiaro. Allora, vi ho già anticipato, le tre vittime sono i tre giovani, Amneris, Radamessa e Aida. Tutti e tre rimarranno vittime, anzi, secondo me la più vittima di tutte è Amneris, perché è condannata a vivere. E peggio ancora, perché tutta la vita sarà distrutta dai rimorsi, dalle cose che ha sbagliato. Ed è ventenne anche lei, una ventenne che ha finito la sua vita. Paragonatela soltanto al giovane Verdi, che si avvicina a Mazzini e alla giovine Italia, ossia quella generazione di italiani che credeva che la gioventù avesse un mondo nuovo davanti. E ci credevano. I Mazziniani e il giovane Verdi ci credevano davvero, tanto da chiamare la loro associazione Giovine Italia, un mondo giovane che si conquisterà la nuova società. Il Verdi dopo l'unità d'Italia, dopo la presa di Roma invece, è un Verdi che condanna i giovani, fa vincere i vecchi. Possibile. C'è qualcosa che dobbiamo studiare meglio in questa Aida. Forse non è soltanto la marcia trionfale. Forse c'è qualcosa di più che ci vuole dire Verdi. Forse non è soltanto l'amore infelice tra Aida e Radamès, già raccontato da secoli. Ed è questo che a me interessa. Non è politica. È morale, collettiva. Ed è questo che a me interessa. Guardate, io non penso di avere la verità su Verdi. Quello che voglio raccontare oggi è una mia vivere da tanti anni insieme a Verdi ed è una mia ricezione. E anche questa premessa voglio fare, poi entriamo in Medias Res. Molte volte, soprattutto qua faccio una autocritica a noi musicologi, non agli interpreti, ai musicisti, ma soprattutto i musicologi hanno un po' questa ambizione di avere la verità su Verdi. Cosa ha voluto dire Verdi? Molto spesso, quasi sempre, vorrei dire anche in Traviata, anche in Otello, Verdi non dice qualcosa, ma mette davanti all'ascoltatore un problema. Perché l'ascoltatore ne sia cosciente di questo problema, non per dargli la soluzione, non per insegnargli. Non è una scuola di morale quella di Verdi, ma è un teatro che ti fa prendere coscienza dei problemi. Qual era questo problema? È molto semplice qual era questo problema. È un problema che poi l'Italia si è portata avanti fino ad oggi. E cioè il problema è che la classe politica era staccata, si stava staccando, mentre era nata, negli anni caldi del Risorgimento, una classe politica che interpretava realmente i desideri, che venivano anche dal basso, a partire da questo momento, a partire dalla presa di Roma, comincia una via in cui la politica va sempre più lontano. L'amministrazione non diventa amministrazione, ma diventa quasi distacco tra governo e governati, che è il titolo di un famoso libro di quegli anni proprio, che accusa proprio questo distacco tra il governo e i governati. Primo problema. Secondo problema. Tra questi poteri forti, cioè i due pa, i due vecchi, di cui ancora non ho parlato in questa trama, ho detto, cinque personaggi principali. Stranamente siamo in Egitto, ma il faraone non è un personaggio principale, tanto che viene chiamato addirittura il re, neanche il faraone. È un personaggio non principale. Adesso il cantante si offenderà perché gli ho detto che la sua parte è minore, ma non intendo quello naturalmente. Ecco, i cinque protagonisti sono le tre vittime, i tre giovani, e due non giovani, e cioè il capo dei sacerdoti, Ramfis, e Amon Asro, il capo degli Etiopi. La mia attenzione prevalente andrà a questi due, che sono veramente i motori dell'azione. Uno è un capo politico, Amon Asro, che deve rivendicare la libertà del suo popolo. Non fa nulla di male. Non sto dicendo nella realtà che adesso ci racconterà Ferraris, sto dicendo nella trama di Verdi. Amon Asro difende la libertà del suo popolo. Cosa deve fare? Cos'altro dovrebbe fare? Non può fare altro. È stato deportato, fatto schiavo, che cosa deve fare? Cerca di riconquistare la libertà, mi sembra abbastanza ovvio. L'altro capo, che è Ramfis, è il capo della casta sacerdotale ed è quello che dà gli ordini anche al faraone, cioè il vero motore immobile di tutta la società di Aida. Lì c'è un problema. Prendo subito il toro per il corno. Il primo problema è il distacco tra governi e governati. Il secondo problema, eccolo, è una cosa che a Verdi sta a cuore per tutta la vita, fino alla morte, quando farà i pezzi sacri. e cioè il fatto che il potere spirituale non può essere nelle stesse mani del potere politico, perché è un minimo principio di separazione delle competenze. Quindi Ramfis può permettersi questa sua astrattezza dall'azione perché detiene tutto il potere in Egitto, incute terrore e dall'altra parte esercita il braccio, la legittima forza, come si chiama in termini tecnici, politici. Secondo errore che ha dita Verdi in questa trama di Aida e lo vedremo con la musica. Questo potere è un potere politico esercitato in maniera assolutistica, in totale distacco dai drammi degli individui. Amon Asro invece esercita anche lui un uomo furbo, un regnante che protegge il suo popolo, però quando deve chiedere un sacrificio alla figlia vedremo che si scioglie con una delle più nobili melodie che Verdi abbia mai scritto. Allora io comincio a riflettere e vi invito a riflettere, non che io adesso vi dico guardate dovete pensare che Verdi voleva dire quello, io non penso affatto questo, Verdi non voleva dire qualcosa, voleva prospettarvi un problema, siete voi, ognuno di noi che deve reagire e dialogare con Verdi, non con me. Però vi faccio prendere coscienza dei meccanismi che Verdi ha architettato in questa sua trama. Dunque, lui ci fa comprendere pezzo dopo pezzo che questo enorme potere si sta mangiando l'intera società. Mi permetti un momento, dovrei far vedere delle slide. E come lo realizza questo? Lo realizza con diversi diversi artifici, diverse possibilità. non stiamo a leggere tutto, non ce n'è bisogno. Mi è sufficiente che voi, se quando andrete a teatro riuscite a padroneggiare l'intera struttura, perché Verdi è molto attento all'intera struttura drammatica, non ai singoli momenti come faceva ai tempi di Nabucco, l'intera struttura, è chiaro che è un'enorme amplificazione sonora, drammaturgica, di presenza in scena fino a quel famoso finale secondo, esattamente a metà dell'opera. Fino a metà dell'opera si vede questo potere di Ramfis, della casta dei sacerdoti, che diventa sempre più opprimente. E fino a questo finale secondo, così grandioso, ti manda all'intervallo, perché lì di solito in teatro si fa l'intervallo, andiamo a prendere il caffè, e questo momento di pausa caffè, sarete con le orecchie cariche del suono, della potenza, della violenza, vi ha appena lasciato proprio con la marcia trionfale. La marcia trionfale non è solo bella musica, è costruita in maniera molto intelligente, ma qua non c'è tempo di spiegarla, ma è anche il punto di arrivo con cui i sacerdoti piazzano la loro violenza, il loro braccio forte al di sopra di tutto, e arriva proprio alla fine. E con un'architettura che Verdi costruisce, che tecnicamente è molto approfondita, è inutile spiegarla, perché voi andrete alla vostra pausa caffè con quella marcia trionfale nelle orecchie che vi suona come un cento trombe che vi puntano nei timpani. Ma non è che l'ha fatto casualmente Verdi, eh? Questo l'ha fatto perché è il potere di Ramfis che ha schiacciato Amneris, Aida, Amonasro, Radames e noi stessi. Loro al di sopra di tutti. Ma da quel punto Verdi ci dimostra che quello strapotere è dannoso, è tragico, è fonte di tragedia e allora comincerà la trama ad assottigliarsi sui poveri individui, i giovani, che alla fine ci lasciano la vita e la vita chi rimane dentro il sotterraneo, Radames e Aida o la povera Amneris che tutta la sua vita la passerà a rimordersi degli errori che ha commesso. Allora, questa struttura non è casuale, non è solo spettacolare, è una piena di significato e questo significato lo vediamo adesso non vi sto a far scuola, non preoccupatevi, è una cosa che anche se non leggete tutto vedrete che capite anche graficamente quello che Verdi ha fatto nel tempo con la musica. Questo è il grande finale secondo, vi ricordate quel rombo che vi ho fatto vedere prima, quel momento centrale di violenza sonora potentissima ed è costruito come un trionfo, il trionfo dei Cesari dell'antica Roma. Strano, eh? Non di Egitto ma dell'antica Roma, adesso vi spiego anche perché. Dunque, era da messa che se ne è tornato dalla sua campagna contro gli Etiopi e li ha deportati, quindi ce l'ha al seguito. E quindi è il Cesare che arriva e si porta l'esercito, le truppe, il bottino di guerra e finalmente gli schiavi. Quello che faceva appunto il trionfo del Cesare raccontato da Svetonio. Com'è costruito? Guardiamo com'è costruito. Prima entrano i sacerdoti, ma guarda un po', sono i primi a entrare, poi entrano le donne, poi andiamo avanti, lasciamo perdere il coro dei sacerdoti, poi entrano dei soldati, dopo i soldati entra Radames, il grande condottiero che ha vinto sul campo e finalmente entrano i vinti, cioè gli Etiopi deportati. è un trionfo costruito, entrano prima il vero potere, i sacerdoti, poi i soldati, poi le donne, poi i soldati, poi il Cesare, Radames che ha vinto sul campo e finalmente i vinti. Sì, ma in mezzo a ogni entrata c'è il coro dei sacerdoti. Il coro dei sacerdoti. Come dire, sì, sì, voi entrate, ma soprattutto ci siamo noi. Il coro dei sacerdoti e finalmente il coro dei sacerdoti. E guardate la nostra marcia trionfale, quella celeberrima, no? Non tira, vabbè, inutile che la suoni, tanto la sapete tutti. E guardate che arriva tutte le due volte che torna, subito dopo, coro sacerdoti, marcia trionfale, coro sacerdoti, marcia trionfale. Perché? Perché quella marcia trionfale è il braccio armato gestito dai sacerdoti. È quello che in termini politici si chiama il diritto di legittima forza. Ma la legittima forza in teoria politica sono l'esercito e la polizia devono essere autonomi dal potere politico e tanto più dal potere religioso. Ecco cosa sta dicendo Verdi con questa gigantesca struttura. Sta indicando un errore politico in maniera molto intelligente. perché indica questo errore? Cosa stava succedendo in Italia? Siamo nel 1870. Sapete tutti cosa stava succedendo. La presa di Roma. Pio IX che si oppone a questo e addirittura nel 70 raduna un concilio in cui fa dichiarare la infallibilità del Papa. Il dogma della infallibilità del Papa. scomunicando i cattolici che andavano a votare. Vi ricordate queste cose? Siamo in questo momento. Questo è il clima politico di cui Verdi era un ricettore è un trasmettitore un testimone. A questo punto vi ho dato un po' la struttura la struttura morale dell'opera. Adesso bisogna vedere come Verdi ci convince che questo è un problema che tutti noi dobbiamo riflettere e che il suo pubblico doveva su cui il suo pubblico doveva meditare. Come lo fa? Verdi non è un filosofo Verdi non è un maestro di scuola è un musicista quindi come sposta la nostra opinione la sposta attraverso la suggestione emotiva. Chiamiamola pure nella maniera che secondo me è quella giusta attraverso le emozioni. Ecco perché ancora oggi se andiamo a teatro e ci emozioniamo non è una perdita di tempo ma è una scuola di vita che ci permette di vivere meglio l'uno con l'altro. Invece questi meravigliosi strutturalismi degli anni 70 e 60 hanno insegnato prima di tutto agli artisti a vietare le emozioni peccato che attraverso l'emozione passa il modo in cui gli esseri umani si rapportano l'uno con l'altro e Verdi fa leva proprio sulle emozioni e quindi attraverso la musica sposterà il nostro io uso le parole come devono essere usate il nostro sentimento io non ho nessun problema a usare la parola sentimento sposta il nostro sentimento a favore di un'idea raffigurata da un personaggio Saramo Nasero e sposta il nostro sentimento contro un'altra idea raffigurata da un altro personaggio che sarà il grande sacerdote Ramfis allora però adesso bisogna sentirle queste musiche bisogna sentirle bisogna entrare nell'universo di Verdi però prima di entrare nell'universo di Verdi con questi due forti poteri quell'egiziano e quell'etio perché sono simboli naturalmente potrei chiamarlo quello brasiliano e quello giapponese sarebbe la stessa cosa adesso dico adesso entriamo anche nell'egitologia questi due poteri Amonasero e Ramfis ci rimette davanti e noi li possiamo confrontare in termini emotivi ma soprattutto ci farà vivere tutta la seconda metà dell'opera quella che ci portiamo a casa perché è l'ultima quella che ci inciderà di più nella nostra percezione ci farà vivere insieme alle vittime cioè noi stessi avremo le emozioni le passioni e i patimenti delle vittime allora io direi di fare adesso una piccola pausa prima di passare alla musica ora vi ho dato un po' la mia lettura dell'opera la propongo naturalmente io non pretendo che voi diciate ah è vero è così Verdi lo ripeto le mille volte pone sul palcoscenico un problema non dice dovete pensare così quindi io adesso ho dato una mia interpretazione ora sentiamo come è nata l'opera quali sono i presupposti e anche il momento storico di interesse per l'egittologia e poi ritorniamo a questi problemi che ho voluto chiamare morali e li riempiamo di significati musicali allora la prima parte di questo nostro incontro la consideriamo finita adesso c'è una seconda parte in cui entriamo nella bottega proprio di Verdi e nel cerchio di persone che hanno collaborato e soprattutto questa meravigliosa figura di egittologo Mariette che ha dato la prima scintilla la prima idea e poi ha accompagnato Verdi nella stesura dell'opera e poi nella terza parte del nostro incontro finalmente affrontiamo la musica e vediamo come attraverso la musica questi valori questi contenuti non soltanto di letto dell'orecchio ma contenuti sono trasferiti nel materiale nel messaggio musicale prego grazie buonasera intanto grazie allora io intanto ringrazio il teatro Regio e ringrazio ovviamente il sovrintendente Verniano e il maestro Fournier che mi hanno appunto coinvolto oltre naturalmente il maestro Rostagno mi hanno coinvolto per un piccolo cameo il mio vuole essere soltanto un piccolo intervento è una bellissima opportunità di collaborazione tra l'altro traduenti così importanti per Torino ed è per cui con un certo anche veramente un sentito piacere che sono qui questa sera questo pomeriggio anzi perché se mi passate l'espressione è un modo anche da egittologo per così togliermi un sassolino dalla scarpa tutte le volte che ho visto l'Aida ho letto il libretto ho letto qualcosa sull'Aida e questo sicuramente anche tutti voi quando andava bene si leggeva di questo soggetto che era stato fornito da Auguste Mariette egittologo punto quello che purtroppo ma questo non è ovviamente colpa di nessuno è semplicemente una questione di focalizzazione di interesse e che nel parlare di questo personaggio non c'è stato quasi mai modo di evidenziare l'importanza che ha avuto Auguste Mariette non solo nel fornire un soggetto ad un'opera ma proprio per la figura rilevante che ha rappresentato proprio per la storia dell'egittologia dunque il mio breve cameo questo pomeriggio ha proprio soltanto lo scopo di dare qualche dettaglio in più su questa figura e anche in qualche modo attraverso questo fornirvi un tipo di angolazione un tipo di prospettiva diversa per osservare un'opera in questo caso naturalmente non è la struttura compositiva non è l'aspetto appunto storico in cui si colloca l'opera bensì è un po' come fare una sorta di anatomia dell'opera perché andiamo attraverso la figura di Mariette a indagare quelli che sono gli elementi costitutivi puramente proprio i mattoni costitutivi portati da Marietta non solo nella costruzione del soggetto che fu poi appunto portato a Verdi ma anche il contributo che lui stesso diede nella realizzazione poi delle scene e dei costumi brevemente prima si parlava mi è piaciuto molto il tema appunto della giovinezza non soltanto perché mi piace pensare di farne ancora parte ma perché mi ha fatto pensare che Marietta appunto nasce a Boulin-sur-Mer in Francia nel 1821 questa data per gli egittologi ha un certo significato dovete sapere infatti che soltanto l'anno seguente un certo Champollion dopo aver appunto dopo essersi dedicato allo studio della stella di Rosetta che tra l'altro non aveva mai visto di persona ma solo ci lavorava su delle trascrizioni riesce a decodificare a comprendere la natura del geroglifico e a decodificare il sistema per avviare appunto la lettura dando di fatto così aprendo un orizzonte improvvisamente davanti agli studiosi gli orientalisti e i classicisti la possibilità di poter accedere alle fonti che in maniera molto copiosa erano presenti in Egitto e che progressivamente andavano mettendosi insieme grazie appunto all'opera di diversi collezionisti ma nel 24 e qui interessa è un po' più campanilistica la cosa nel 24 c'è un altro importante evento ovvero sia l'acquisto da parte dei Savoia della collezione di Bernardino Drovetti che arriva appunto a Torino dando sostanzialmente il cuore di quello che oggi poi è il museo egizio di Torino portando appunto poi la collezione le collezioni dei Savoia appunto al collegio dei nobili dunque in un certo senso Marietta si può dire già anagraficamente che sia figlio di una nuova dal punto di vista egittologico sia figlio di una nuova temperie culturale una nuova scienza che stava veramente muovendo i primi passi ma lo stesso Champollion nel 24 arriva alla collezione qua a Torino il 25 è già qui a studiarla mettendola appunto alla prova il proprio sistema questo per cui ci spiega per quale ragione se andate a guardare a leggervi una biografia su Marietta scoprite che lui non nasce perciò egittologo perché l'egittologia ancora tecnicamente quasi non esisteva stava veramente muovendo i primi passi e dunque non sorprende scoprire che lui intorno ai 21 22 anni era un normalissimo insegnante di una sorta di liceo e che però ordinando le carte di un suo lontano parente Nestor Loth che aveva partecipato alla missione di Champollion in Egitto lui era un illustratore tra le altre cose appunto mettendo a posto queste eccezionali queste eccezionali carte perciò illustrazioni dell'Egitto veramente viene completamente travolto dall'amore per questa civiltà e si trova addirittura ad abbandonare proprio il proprio posto di lavoro cercando di entrare attraverso a più riprese al Louvre inizialmente come veramente nell'ultima ruota ecco e riesce nel 1850 a raggiungere l'Egitto in realtà lui arriva in Egitto soltanto per acquistare dei manoscritti copti che il Louvre aveva commissionato all'epoca non esistevano ancora attività archeologiche sistematiche all'epoca si andava in Egitto si comprava sul mercato si compravano gli oggetti e si costituivano collezioni si ampliavano collezioni lui fa lo stesso ma è qui che si gioca un po' il ruolo fondamentale di questa figura Marietta infatti non riesce a mettersi d'accordo con il patriarca di Alessandria inizia a girare per diversi monasteri non riesce a trovare effettivamente questi manoscritti che potevano interessare e con quella somma adesso ve la faccio breve avvia uno scavo a Sacchara che è la necropoli reale vicino al Cairo e fa una scoperta piuttosto importante nel nostro settore ovvero sia la scoperta del Serapeo ovvero sia si tratta di una tomba per dei tori sacri tori che rappresentavano in origine il dio Nilo chiamato appunto Api che poi progressivamente viene associato a diverse divinità non ultima l'odio Ptà di Menfi appunto che voi attraverso l'Aida conoscete appunto ecco e questa indagine sistematica dà il via in realtà a un nuovo processo perché scoprendo queste meravigliose che tra l'altro sono degli ambienti delle tombe ovviamente sono degli spazi sotterranei giganteschi ecco questo sono già come li potete vedere oggi in cui ci sono questi sarcofagi in granito all'interno dei quali erano sepolti dei tori che venivano allevati specificamente venivano venerati come delle divinità e che addirittura poi ricevevano una sorta di come dire titolatura proprio perché venerate come una sorta di personificazione della divinità in terra vedete appunto le dimensioni incredibili di questi di questi sarcofagi mentre e sono scavi che lui conduce tra il 50 e il 53 suscitando un grandissimo scalpore tant'è vero che l'Uvro smette di cercare di acquistare attraverso lui degli oggetti e comincia a usare le stesse somme per finanziare e alimentare questo scavo che procede poi naturalmente come spesso accade quando si inizia qualcosa di assolutamente nuovo tra alti e bassi comunque tra il 50 e il 53 porta avanti lo scavo del serapeo ci sono queste tavole che vedete del 75 e dell'85 che ho voluto che mostrano appunto queste gallerie e ve le mostro perché tra le varie suggestioni che si sono anche addotte a proposito del soggetto dell'Aida si pensa che queste potrebbero anche aver indicato appunto nel soggetto dell'Aida poi l'idea di questo ambiente catacombale sotterraneo appunto con cui si chiude l'opera personalmente non mi convince moltissimo perché in una lettera che mi è capitato appunto di vedere recentemente lui fa riferimento a questi sotterranei Mariette fa riferimento a questi sotterranei ma come esemplificazione non cita minimamente il serapeo cita semplicemente quegli ambienti sotterranei che dice si trovano in tanti templi dell'Alto Egitto cioè della parte del sud allora perciò la prima caratteristica la prima cosa da ricordare di questo egittologo è il fatto di essere stato iniziatore di un processo che poi porterà nella seconda metà dell'Ottocento tanti musei noi arriveremo un po' più tardi nel 1903 soltanto ad avviare poi scavi sistematici appunto in Egitto dopo una stagione ancora dove il museo fa acquisti ma è con questa figura che inizia una nuova lettura proprio del rapporto con le antichità un rapporto che peraltro trova anche una nuova sensibilità non è soltanto tecnica non è solo archeologia è anche proprio una sensibilità verso l'antico perché lui si fa promotore presso Ismail Pashal che li vede Egitto con cui intrattiene nel tempo dei rapporti sempre più stretti fino a diventare veramente una sorta di factotum per lui porta avanti proprio questa idea di sensibilizzare il che li vede Egitto alla costituzione di un ufficio preposto alla salvaguardia del patrimonio voi dovete pensare che praticamente da Napoleone poi e anche prima ma soprattutto dalla campagna napoleonica in Egitto l'Egitto era spogliato regolarmente di oggetti che venivano a volte proprio anche tagliati abbiamo dei rilievi c'è lo zodiaco di Dendera che fu tagliato tra l'altro molto tempo prima di Napoleone portato poi all'Uvro ma facendo veramente un taglio sul tempio di Dendera con trasporti impegnativi così come anche lo stesso Champollion che è pur padre dell'Egittologia ma non si è sottratto anche lui a partecipare ad una campagna in cui hanno staccato dei rilievi dalla tomba di Seti I per poi portarle un po' a Firenze un po' a Parigi per cui era una prassi ma appunto come leggiamo in questo breve estratto lui per primo si fa portatore di un'istanza che è quella di dire dobbiamo preservare questi monumenti e questo patrimonio perché da qui a un lasso di tempo non necessariamente tanto lungo potrebbero non essere più qui ed è così che nasce nel 58 questo ufficio appunto che oggi è noto come concilio supremo delle antichità egiziane e che è l'organismo ancora oggi preposto proprio alla regolamentazione degli scavi archeologici in Egitto nonché naturalmente alla tutela proprio del patrimonio artistico e archeologico l'operazione della costituzione del servizio ai tempi di Mariette però aveva sostanzialmente due compiti per prima cosa l'obiettivo era quello di andare per tutto l'Egitto avviare degli scavi in realtà più tesi a liberare grandi templi dalle sabbie e prendere tutto quello che si poteva spostare e portarlo al Cairo portarlo al Cairo per iniziare a costituire una collezione che avrebbe poi formato appunto sempre nel 58 una collezione che doveva diventare poi il primo museo di antichità egiziane al Cairo appunto nel quartiere di Bulac di cui lui diventerà appunto naturalmente poi direttore ma adesso questo perciò per farvi giusto darvi qualche coordinata sulla figura assolutamente centrale nella storia egittologica di questo di August Mariette adesso passiamo invece a proprio guardare un po' di notizie egittologiche sul soggetto dell'Aida Mariette adesso naturalmente non serve che vi stia a raccontare tutto il suo progressivo coinvolgimento sappiamo semplicemente che lui si fa promotore di un soggetto lui in realtà aveva già un passato diletterato perché oltre a fare l'insegnante faceva il giornalista e si occupava tra l'altro proprio di storia e anche proprio storia politica e già si interessava tra l'altro anche ad argomenti soprattutto sul rapporto politico tra Inghilterra e Francia e con la questione poi di Suez diventa anche emblematica ma ci ho detto lui era già stato autore in realtà di brevi romanzi dunque non era nuovo come letterato scrive questo soggetto viene appunto sottoposto a Verdi che poi dopo un lasso di tempo e dopo diverse incertezze o rifiuti se possiamo proprio dirlo effettivamente poi accetta questo soggetto senza però in realtà sapere che poi dietro questo soggetto era presente questo Auguste Mariette che invece poi Verdi normalmente intenderà essere semplicemente quello che si occupa fa da collegamento un po' tra il Chedive d'Egitto e l'impresario appunto Drenart dell'opera del Cairo ma non avrà assolutamente consapevolezza di questo allora nella sua posizione di direttore del museo di Bulac e soprattutto di Mamur cioè direttore del servizio dell'antichità Mariette sostanzialmente controlla e organizza il dissepellimento dei templi la movimentazione di oggetti e in mezzo a questi vi sono proprio nel 62 siamo nel 1862 vi avviene una scoperta una scoperta che ha a che vedere con un sito che si chiama Jebel Barkal che si trova attualmente in Sudan di cui parleremo a breve e questa scoperta riguarda delle stele che in realtà sono note già per quanto riguarda il loro valore probabile per la genesi appunto dell'Aida da tempo e che recentemente vi ho messo soltanto questo riferimento per vostra notizia recentemente c'è stato un articolo è uscito un articolo nel 2015 quest'anno di Thomas Schneider dell'Università di Vancouver che esplora in maniera un po' più dettagliata i contenuti di queste stele e come questi contenuti sono venuti a contribuire alla stesura del soggetto probabile stesura del soggetto di Mariette il Jebel Barkal si trova appunto come dicevamo in quella che era che conosciamo noi come egittologi come Nubia che oggi è appunto il Sudan si tratta di un'area appunto il Jebel Barkal è un monte è un monte e in prossimità del quale già dal almeno il nuovo regno diciottesima dinanzia con Tutmosi III siamo intorno al 1400 a.C. viene eretto un tempio di cui adesso sussistono queste rovine dedicato a una divinità in forma di ariete che era una forma del dio Amon Amon appunto di Jebel Barkal successivamente intorno a questo santuario e ripeto siamo intorno al 1400 a.C. circa 500 anni dopo o poco più una dinastia locale verrà diciamo a coagularsi intorno a questo centro religioso che la cui importanza sarà sempre più crescente arrivando poi a costituire quella che noi conosciamo poi come venticinquesima dinastia ma ci arriviamo a breve ecco qui vedete cosa come doveva apparire all'epoca appunto intorno al nuovo regno appunto il Jebel Barkal con diversi templi questo è quello di Tutmosi III qua ci sono i templi dei loro successori più l'area palatina ma ecco ora nel 1862 vengono scoperte in quest'area cinque stelle quattro delle quali interessano il nostro argomento si tratta di stelle regali che hanno una intonazione allo stesso tempo letteraria e storica ed è guardando ai contenuti di queste stelle che potremmo forse isolare alcune delle suggestioni che poterono portare Mariette a fornire quelli che sono poi dei nuclei effettivamente caratterizzanti la storia di Aida tenendo presente che appunto i lavori di Aida si svolsero intorno al 1870 tra 69 e il 70 andando poi in scena nel 71 queste stelle furono trovate nel 62 furono prima pubblicate da Mariette già nel 65 in una forma molto breve pubblicate significa che per cui erano state lette erano state capite ed erano state appunto poi sintetizzate in un articolo e poi successivamente abbiamo poi una pubblicazione più estensiva nel 72 dunque dopo Aida questo vuol dire che i contenuti di queste stelle di questo tipo di ricerca sono coesistenti ovviamente nel lavoro di Mariette con i lavori che lo vedranno poi coinvolti proprio con Aida allora la prima più importante anche cronologicamente è la prima ma è anche forse una delle più importanti da un punto di vista proprio storico è la stelle della vittoria di Pi allora la venticinquesima dinastia ha inizio appunto con un farone che si chiamava appunto Pi suo padre Cashta siamo intorno all'ottavo secolo avanti Cristo è sostanzialmente il primo di questa casata che avanza dalla Nubia e inizia ad avanzare appunto verso il territorio egiziano fino appunto a Tebe dove collocherà tra l'altro una figura una principessa con un nuovo ruolo religioso che è appunto quello della divina sposa di Amon questa principessa si chiama Amenirdis e il contesto politico in cui la venticinquesima nasce la venticinquesima dinastia nasce è il contesto di un Egitto diviso siamo ormai abbastanza lontani dalla potenza del nuovo regno quella appunto di cui spesso si parla anche in relazione ad Aida il nuovo regno si è chiuso intorno all'anno 1000 in quel momento si arriva a una sorta di rottura tra il potere regale e quello religioso rappresentato a Tebe dalla casta sacerdotaria appunto del tempio di Amon Ra e il paese si spacca in due parti sostanzialmente da un lato c'è Tebe al sud mentre la casata regnante sposta la capitale a Tanis nel nord questa situazione poi andrà complicandosi perché poi questa nuova dinastia la ventunesima appunto a Tanis in realtà alla sua cessazione vede poi il popolamento nel delta di nuove dinastie coesistenti di origine libica e l'Egitto insomma vive uno stato di frammentazione politica e culturale al nord soprattutto anche a causa dell'influenza della Siria mentre al sud c'è questa situazione più o meno stabile a Tebe è in questa situazione che si colloca per cui questa stele in cui Pi sostanzialmente racconta di una sorta di crociata che lancia in Egitto per riunificarlo e scacciare gli stranieri è una stele molto importante grande che si trova al Cairo e lui sostanzialmente partendo dalla conquista di Tebe racconta proseguendo lungo il fiume la conquista delle varie città fino ad arrivare appunto nel delta è dunque una stele che racconta di una nubia che invade l'Egitto se vogliamo vederla in questi termini in nome del ripristino di una ortodossia religiosa e in nome di una pretesa eredità di cui si fa portatrice per ripristinare per riportare l'Egitto alla sua antica gloria l'altra stele ha un tema molto simile siamo sempre in venticinquesima dinastia in questo caso però è una stele che viene chiamata la stele del sogno perché nella stele il faraone tantamani racconta che lo stesso è stato Amon stesso che gli appare in sogno e gli dice parti e riconquista l'Egitto da questo capite che naturalmente il suo predecessore Pi in realtà non era poi riuscito malgrado i proclami a unificare il paese la situazione in realtà rimarrà sempre molto tentennante ma di nuovo abbiamo una grande stele che ci parla di una crociata che porta la Nubia a voler riportare l'Egitto alla sua unità due stele dunque che ci parlano di questo tema della Nubia che arriva in Egitto la terza è forse anche più particolare per voi che poi tra l'altro avete già sensibilità rispetto ai temi dell'Aida perché in maniera piuttosto curiosa curiosa almeno dal punto di vista dell'Egittologia questa stele racconta di una incoronazione di un re nubiano che si chiamava Spelta perché è curioso perché l'idea dell'incoronazione viene descritta nei termini di una sorta di elezione di una sorta di nomina oracolare da parte del dio Amon Ra cosa questa che non appartiene alla tradizione egiziana infatti anche le fonti classiche ci parlano parlano degli etiopi come si riferivano appunto alle genti nubiane descrivendo questa sorta di nomina oracolare l'oracolo che semplicemente si esprima a favore di uno o l'altro nella nomina del faraone o meglio in questo caso di un faraone ma in questo caso di un re etiope nel testo viene proprio raccontato come e c'è anche questa espressione piuttosto interessante viene raccontato proprio il radunarsi delle genti che sono attendono di avere la nomina appunto del nuovo re e dicono il sovrano viene inteso come una personificazione del dio Ra il dio sole e dicono Ra è presente ma noi non lo conosciamo cioè è presente tra di noi ma noi non lo conosciamo e dunque decidono di rivolgersi all'oracolo di Amon che viene appunto descritto dopo addirittura un paio di passaggi tentativi effettivamente nomina Aspelta l'ultima stele di cui invece che andiamo a vedere è poi ancora la stele dell'esilio che appartiene sempre all'epoca di Aspelta ma ci parla di un caso veramente singolare il sovrano dopo aver detto che ha costruito templi che ha fatto tutto per Amon Ra dice mi sono recato poi al Jebel Barcal e lì ho cacciato via una famiglia di sacerdoti perché perché questi sacerdoti si sono macchiati si sono macchiati del delitto di aver organizzato ordito ai danni di un uomo che era senza colpe e hanno ordito uccidendolo si sta parlando del contesto di nuovo di un oracolo la prassi era dovete immaginare l'oracolo in Egitto era normalmente una sorta di lettiga con sopra una divinità c'erano i sacerdoti che lo portavano poi c'era da decidere tra un argomento su un argomento tra due opzioni tra due oggetti tra due persone e a seconda di quello la lettiga si inclinava proprio per esprimere la volontà della divinità ed è interessante che nel testo in questione si sottolinei come questi sacerdoti evidentemente hanno voluto fare i loro comodi esprimendo una volontà e il testo lo dice che non era corrispondente a quella del Dio i sacerdoti vengono esiliati e vengono poi anche uccisi mediante tra l'altro vengono bruciati vivi e nel testo si dice in modo tale che questo non si ripeta mai più bene se noi andiamo ora a guardare questi temi effettivamente è suggestivo riscontrare che ci siano delle indicazioni che nella scrittura nella testa stessa di Marietto potrebbero aver influenzato almeno nell'inserimento di alcuni di alcuni di questi temi naturalmente le due crociate ci parlano di questo mondo egiziano che si trova a confronto con una nubia che varca i confini e che cerca di ripristinare appunto di presentarsi in una maniera appunto conflittuale nei confronti dell'Egitto naturalmente poi invece la stelle dell'incoronazione è molto vicina all'idea di una nomina oracolare che in questo caso colpisce che interessa Radames mentre ancora la pena capitale che viene combinata ai sacerdoti è di nuovo un tema che tra l'altro anche questo piuttosto insolito nella tradizione egiziana che potrebbe aver tranquillamente suggerito a Mariette il tema appunto della conflittualità del ruolo dei sacerdoti che nell'Aida appunto hanno questo condanna non innocente sostanzialmente parlando di questo naturalmente non possiamo non far riferimento poi anche i nomi presenti nell'Aida si ritiene comunemente che il nome Aida che Mariette stesso tra l'altro in un paio di lettere chiamava Aita perché si presume che il nome derivi proprio dall'egiziano Iti che compone anche in alcuni nomi tipo Nefertiti Iti vuol dire sostanzialmente colei che è arrivata infatti Nefertiti vuol dire la bella che è arrivata e in questo caso è lo stesso Mariette che dice Aita veniva letto Iti come Aita oggi noi lo leggiamo Iti dice potremmo però tranquillamente farlo passare come Aida perché i cantanti potrebbero avere difficoltà a pronunciare la T e quasi sicuramente slitteranno verso la D il nome Amneris Amneris a sua volta è molto verosimilmente una leggera deformazione di Amenirdis che abbiamo già citato prima che è un nome abbastanza comune proprio per la venticinquesima dinastia i vari Radames e Ranfis sono poi delle deformazioni sono proprio delle variazioni morfologiche invece del nome Ramesse e Amonasro è invece forse quello che ha proprio un riferimento forse storico molto più preciso non naturalmente un riferimento storico per l'Aida ma almeno come aggancio del nome perché il nome Amonasro oggi potrebbe riferirsi benissimo a un sovrano meroitico del terzo secolo avanti Cristo che si chiamava appunto Amonislo viene oggi letto Amonislo ma all'epoca di Mariette poteva tranquillamente leggersi come appunto Imenisru perciò Amonasro questo Amonasro questo Amonislo è presente è forse il primo sovrano tra l'altro meroitico conosciuto non da fonti classiche ma da fonti egiziane perché arriva già nel 1829 al British Museum e per cui questo possiamo dire è un po' il tipo di mattoni il tipo di materiali che aveva a disposizione Mariette nel vivo della sua attività scientifica che non stava cessando naturalmente di essere benché stesse lavorando appunto già all'Aida sappiamo appunto l'ha ricordato prima il maestro che Mariette va a Parigi nel 1870 è luglio del 1870 e dalle lettere apprendiamo che si era recato lì proprio per seguire personalmente la creazione dei costumi e delle scene perché il appunto il chiedivè richiedeva che vi fosse un'assoluta precisione scientifica egittologica purtroppo da lì a pochi giorni appunto in luglio inizia la guerra franco-prussiana che poi da settembre a gennaio bloccherà Parigi con Mariette al suo interno ed è anche questa una delle ragioni che portano forse al rallentamento della produzione di Aida che in realtà era prevista già a gennaio del 71 invece verrà slittata poi a dicembre tra le scene che abbiamo a disposizione notiamo che vi sono effettivamente dei diretti paralleli che Mariette poteva utilizzare traendo direttamente spunto non solo dall'osservazione diretta dei monumenti che lui come appunto direttore del servizio dell'antichità poteva disporre ma anche da un'opera fondamentale che era la descrizione dell'Egypte così come in quest'altra scena dell'atto secondo il bozzetto in realtà è quasi un po' un pastiche di vari elementi che però probabilmente sono da riferirsi al tempio di Luxor in cui c'è questa coesistenza di statue assise di colossi assisi appunto e di statue ecco qui arriviamo poi infine al tratto dei costumi una questione una carelta abbastanza problematica abbastanza accesa anche sull'attribuzione di quali bozzetti sono appunto di Mariette i quali invece sono stati messi in pulito per lui interessante però sono appunto nelle sue lettere i diversi riferimenti alla necessità di mettere di rappresentare gli egiziani non alla maniera europea dei cantanti europei che appunto avevano i baffi la mosca eccetera ma insiste affinché i cantanti si rasino arrivando a un certo punto nell'estremo appunto in una sorta di accensione in una lettera a dire vabbè ma allora se facciamo mettiamo i baffi ma allora facciamo ora da messa allora anche alla cinese possiamo tranquillamente farlo alla cinese per quanto riguarda i costumi è possibile che lui si sia servito di alcune mattonelle smaltate rappresentanti prigionieri almeno per quanto concerne la realizzazione di alcuni costumi vi faccio notare però appunto a margine della questione dei baffi che infatti lui sui personaggi nubiani come appunto Amonazro oppure dei semplici coristi invece Barba e Baffi li prevede contrariamente a quanto avviene invece per i soggetti egiziani che come vedete sono perfettamente rasati in alcuni di questi bozzetti lui fa anche delle annotazioni molto interessanti citando addirittura anche altri studiosi e in questo caso fa possiamo vedere con questa figura di sacerdote non solo fa dei disegni ma troviamo anche un parallelo diretto per quello che va a scrivere nella nota proprio da un tempio di Seti I identificando anche dell'attrezzeria in questo caso che è però proveniente effettivamente dalla tradizione egiziana e tra l'altro questo è un bracere che serve proprio a diffondere incenso durante le cerimonie anche a favore delle divinità e questi sono per cui alcuni piccoli elementi che lui potrebbe aver tratto potrebbe aver utilizzato sicuramente sono abbastanza caratteristici da non essere proprio perché non appartengono mi riferisco adesso alle stelle del Jebel Barcal sono degli elementi estremamente calati nella cultura nubiana e più lontani dalla tradizione egiziana il fatto che siano stati scoperti in un tempo così ravvicinato all'Aida lascia veramente questo sapore e questa idea che possano aver influenzato questi tratti e questo è un piccolo perciò omaggio a Gus Mariette che spero possa dare una nuova angolazione anche a quella che può essere l'esplorazione come dicevo all'inizio anatomica persino dell'opera dell'Aida per quelli che sono i mattoni che la compongono vi ringrazio dunque per questi pochi minuti che mi rimangono certamente non vi potrò seguire tutte le cose che vi ho spiegato prima quindi cercherò di essere molto breve la vostra attenzione penso che sia già molto provata e allora facciamo un piccolo sforzo cerchiamo di risalire parliamo soltanto dei due poteri forti facciamo solo una piccola passata su queste tre povere vittime che sono realmente i protagonisti dell'opera Radamessa Aida e Amneris con cui vivrete i due atti finali dell'opera sono soprattutto loro soprattutto le vittime e invece cercherò da prima di brevemente farvi vedere questi tre per sapere per comprendere poi come Verdi voglia che noi ci trasportiamo dentro di loro cioè che patiamo l'ingiustizia di modo che la viviamo dall'interno però vi farò vedere a sostanziare la mia opinione come lui caratterizza emotivamente emozionalmente i due poteri i due poteri sono quelli di Amonasero e di Ramfis allora Ramfis e tutta la casta sacerdotale attraverso tutta la partitura canta sempre nello stesso modo non modifica è come se fossero delle non umanità come se fossero loro stessi dei monumenti e cantano sempre sempre con un unico elemento musicale che sentiamo sin dall'inizio dell'opera nel preludio eccetera poi lo sentiremo fortissimo oppure lo sentiremo pianissimo nella scena del quarto atto dell'inquisizione del tribunale a cui facevamo riferimento prima pianissimo ma soprattutto è congelante raggelante spaventoso incute quasi terrore il modo in cui questi sacerdoti quando entrano in scena bloccano l'azione sentiamo i tre poveri ragazzi che tra di loro non solo non vanno d'accordo ma sono cose grosse insomma sentiamo anche musicalmente e delle tempeste passionali e improvvisamente queste tempeste passionali sono interrotte da totalmente straneo dai turbamenti dei poveri individui se vi faccio solo un esempio facciamo un esempio un esempio per farvi vedere come è raggelante questo succede mille volte durante la trama l'esempio è questo lo prendo dall'ultimo atto l'atto predominato è diviso in due parti la prima parte è Amneris che cerca di salvare l'ultima volta Radames dicendole ti salverò se tu lasci Aida e lui rifiuta e c'è uno scontro violentissimo tra i due e arrivano proprio all'estremo della violenza lui dice preferisco morire ma quella non la lascio cioè quell'idealismo sfrenato che ai tempi di Mazzini era il valore positivo ora diventa un valore positivo ma che porta alla morte allora vediamo come i due Amneris Radames controbattono l'uno con l'altro e poi sentite quando arrivano e loro sono in scena e sentono arrivare da fuori il gruppo dei sacerdoti con Ramfis al suo al capo siamo alla fine dell'opera a cui ho scelto di proposito questo perché il tema dei sacerdoti ci ha accompagnato attraverso tutta l'opera e in questo momento un attimo prima della morte della condanna di Radames suona secondo me ancora più raggelante proprio perché blocca tutto lei prova l'ultima volta a salvarlo e dice dei miei pianti la vendetta or dal ciel si compirà i miei pianti la vendetta or dal ciel si compirà e lui dice è la morte un ben supremo è la morte un ben supremo se mi è dato riunirmi con Aida eccetera allora non c'è quasi bisogno di sentire cosa dicono i due ragazzi perché è evidente che si stanno mettendo tutti loro stessi qua dentro e attacca Radames riattacca Amneris che ancora ci prova in questo momento i due finiscono di parlare ma la musica si incarica di dirci che il loro turbamento raggiunge il massimo così ci aspettiamo che succeda un disastro e la tensione dei due ragazzi scompari in un attimo perché stanno arrivando il potere che è totalmente estraneo di cui loro non hanno nessuna possibilità di incidenza e naturalmente lei cosa dice o in me morir mi sento mi sento morir questo è soltanto l'ultimo e poi comincia una parte che non è un tempo di analizzare dove loro parlano in terzine dantesche addirittura come se fossimo già nell'inferno questo è l'esempio di Ranfis e dei sacerdoti un potere totalmente astratto non vi faccio ancora il parallelo con la teoria politica di quel momento degli anni 1870-1880 in Italia perché voglio adesso vedere invece Amonasero allora il primo potere forte sono i sacerdoti che per tutta l'opera per quattro atti tutte le volte che cantano cantano sempre quella cosa lì Amonasero Amonasero è un uomo violento Verdi nelle sue lettere dice è un guerriero furbo audace certo è un guerriero furbo audace e deve convincere Aida un'altra delle vittime la vittima insomma la deve convincere a far confessare a Radames di dove passeranno gli armati nella seconda guerra rappresentata in questa opera e per far questo naturalmente lo deve ingannare e lei che ha appena fatto un'area di rimpianto della patria perduta alla fine è costretta a cedere è costretta a cedere ma a quel punto Amonasero diventa un'altra persona e canta come una melodia che è un grande abbraccio alla figlia e non c'è questa distanza tra un uomo di potere che è ugualmente un uomo di potere una ragione di stato che è ugualmente una ragione di stato ma non è lontana dai governati e allora ecco che di colpo c'è la grande parola scenica lui la maledice e gli dice non sei mia figlia dei faraoni tu sei la schiava non sei mia figlia dei faraoni tu sei la schiava tutto si placa e lei pietà e comincia lei a soffrire e a dire non imprecarmi non maledirmi ancora tua figlia potrai dirmi ancora tua figlia potrai chiamarmi della mia patria della mia patria degna sarò e sentite come recita perché lei recita non canta questa frase come si apre poi l'abbraccio di Amonasero nella mia patria della mia patria della degna sarò e attacca Amonasero pensa è un popolo e attacca subito la figlia come se fosse un'unica melodia oh patria oh patria oh patria quanto mi costa insomma sono diventati quasi una persona sola questo guerriero furbo audace poderoso autoritario ragione di stato tanto quanto gli altri ma è diventato addirittura vicino alla sofferenza alla sofferenza dei suoi sottoposti questa melodia non tutti l'hanno giudicato una bella melodia non giudichiamo che sia bella o brutta giudichiamo dentro il teatro di Verdi che significato ha allora vi voglio suonare di nuovo la melodia di Amonasero e poi un'altra melodia dell'opera immediatamente precedente La forza del destino provate a confrontarle provate a ricordarle questo è Amonasero e questa è un'altra melodia Amonasero altra è la stessa melodia questa melodia la canta Leonora nella forza del destino quando chiede a Dio aiuto nel momento in cui è solitudine certo non un personaggio negativo anzi è il personaggio per cui tutti ci commuoviamo la povera Leonora che la preghiera di Leonora finisca in bocca al guerriero furbo audace autoritario per me è un po' la prova provata che nella percezione emotiva di Verdi questi due uomini di potere Ramfis e Amonasero sono chiaramente due personificazioni di due tipi di ragion di Stato totalmente diversa da una parte della ragion di Stato che ha una continuità quella di Amonasero che ha una continuità con i suoi sottoposti che è certo che chiede sacrifici ai sottoposti che Stato sarebbe è ovvio che lo Stato chieda qualche sacrificio che società saremmo se non siamo capaci a fare un sacrificio sociale è ovvio questo ma poi il potente di turno ti è vicino non che dopo che ti ha spremuto ti molla gli altri invece per tutta la loro trama qualunque cosa succeda totalmente impermeabile a cosa succede fuori del palazzo del potere questi sono i due aspetti che Verdi ci mette davanti naturalmente dopo averceli messi davanti deve farci vivere l'ultima scena purtroppo non posso far rivedere il terzetto tra le tre vittime Aida Amneris e Radames perché è il terzetto in cui le tre vittime si capisce che tra di loro poveretti non capiscono loro come i capponi di Renzo se la prendono l'uno con l'altro non capiscono che sono tutte e tre vittime è quel duetto celeberrimo questi cinque minuti me li concederete è quel duetto celeberrimo dove c'è la gelosia di Amneris che si manifesta per la prima volta e la povera Aida che canta sopra una melodia piena di appoggiature quindi celeberrimo tema e parte Aida eccetera non so se lo ricordate e mentre sotto continua tutto il turbinio di Radames e Amneris sopra la povera Aida anche lei lasciata quasi da sola musica meravigliosa musica meravigliosa questo è il terzetto che sentirete nel primo atto dove per la prima volta i tre giovani non si rendono ancora conto e si attaccano l'uno contro l'altro qui è un capolavoro di concertazione e qui sentirete esecuzione meravigliosa naturalmente e questo ci fa capire Verdi quanto è preciso nel mettere a fuoco gli elementi del suo dramma questi sono i tre che stanno patendo e patiscono tutti in questo momento patisce Amneris con questa tortuosità e patisce Aida e Radames è un po' l'oggetto nelle mani di queste due donne bene tutte le sofferenze e i patimenti di questi tre non contano niente perché vengono totalmente vanificati da quel potere stabilissimo impermeabile e impenetrabile che è la casta sacerdotale allora ecco perché è così importante il finale secondo in cui c'è l'espressione massima della casta sacerdotale e il finale ultimo a cui stavo facendo riferimento prima cioè col palcoscenico diviso se per favore guardiamo un momento il powerpoint è questione di un minuto e così spero di riuscire almeno non dico a convincervi ma a farvi capire bene di cosa intendo ecco questo è quello che pensava Giulio Ricordi l'editore di Verdi siamo alla fine mi limito a fare questo mi limito a andare alla scena finale Giulio Ricordi disegna questo bozzetto ecco questo è il bozzetto di Ricordi nella disposizione scenica e la realizzazione scenica è è questa vedete che è proprio la stessa cosa succede qui succede che le vittime stanno qui al buio buio completo mentre sopra c'è il tempio di Vulcano a Menfi dove ci sono le sacerdotesse che cantano un altro di quei canti che ricorre attraverso tutta la partitura e non si muove mai è sempre sempre uguale lo sentiamo è un altro segno di quel potere immobile un altro dei temi celeberrimi di Aida un tema chissà esotico se volete ma insomma tema assai celebre che sicuramente se avete sentito Aida vi è rimasto nell'orecchio se vi è rimasto nell'orecchio non è per caso Verdi lo sapeva benissimo perché è un altro dei segni di quel potere e allora potremo pensare sopra c'è la luce fortissima del potere immobile e sotto ci sono le povere vittime che stanno morendo e che cosa fa Verdi e qui vediamo il grande uomo che vi ho detto all'inizio che ormai è pienamente padrone delle sue capacità drammaturgiche la musica sarà tutta sovracuti sonorità estremamente luminose vedi di morte l'angelo dice Aida ed è la musica che corrisponde alla parte buia quindi la scurezza visiva corrisponde alla luminosità dei violini alla luminosità del canto invece il canto delle sacerdotesse è plumbo l'avete sentito tutto nei registri gravi e quindi la parte musicalmente oscura corrisponde al chiarore del potere superiore quindi c'è questa specie di ossimoro di chiasmo di opposizione e di nuovo uno dei punti sublimi qua siamo a Torino e non potete negarmi un riferimento a Massimo Mila che è stato un grande studioso di Verdi e anche di Aida e è una cosa che mi ha lasciato molto è un saggio meraviglioso quello di Mila che io faccio leggere agli studenti che devono conoscere però una cosa mi lascia con un piccolo punto interrogativo Massimo Mila esprime qualche molto lieve perché lui è come me un appassionato verdiano ma qualche lieve dubbio su questo finale dicendo forse questo non è il finale di Otello è una specie di preparazione a quella morte lenta di Otello che si pugnala alla fine io direi che in questi anni si è un po' riveduta Mila scriveva queste cose 40 anni fa direi che in questi anni si è un po' riveduta questa interpretazione e allora mi permetto di consigliare si arriva alla fine di Aida che si è sempre un po' stanchi in teatro perché dura quattro ore quasi è per quello che questo finale a volte rischia perché è un finale lentissimo che tanto piaceva a Thomas Mann proprio per quello è un finale lentissimo che si evolve con un tempo drammatico lentissimo e quindi questo rischia di farlo diventare un po' per noi noioso poi a mezzanotte anche tardi quando arriviamo a questo però se mi posso permettere io quando vado a sentire Aida sono attaccato alla sedia ma magari vi potete rilassare un po' prima ma cercate una volta che sentite Aida di rilassarvi prima magari nel finale del terzo atto e arrivare belli svegli a questo momento perché qui è vero non è il verde che ci immaginiamo tutto muscoli ma è un altro verde è un verde che ha assimilato Gounod ha assimilato in parte qualcosa dell'Owengrin ha assimilato tutto quello che aveva intorno non perché era un copione ma perché era un genio al contrario anche Mozart assimilava tutto quello che trovava intorno e qui c'è davvero un momento bisogna vivere di momenti perché sono melodie brevissime loro non hanno più fiato stanno morendo non possono più cantare le melodie di Manrico o le melodie di Luca di Mantova cantano brandelli di melodia e allora bisogna accogliere captare questi piccoli particolari e tardi non ve li posso suonare ma anche a pianoforte sono davvero meravigliosi e gioca molto sulle appoggiature vi faccio solo un esempio l'ultima melodia la penultima non proprio l'ultima la penultima melodia che canta Aida sono pochi secondi vedi di morte l'angelo no quella prima di vedi di morte l'angelo ancora prima quando dice è proprio quella vedi di morte l'angelo radiante a noi si appressa ne aduce eterni gaudi sovra i suoi vanni d'or già veggo i cieli schiudersi ivi ogni affanno cessa non conta tanto le parole ma conta come le canta e che cosa dice subito dopo dice che le anime volano al raggio dell'eterno di questa idea delle anime che volano che si staccano da questa realtà un po' discutibile che viviamo tutti i giorni è una cosa che stranamente ritroviamo in Richard Strauss di nuovo il tardo Richard Strauss quando mette in musica un testo di Herman Hesse Bein Schlafengein cioè vicino all'andare a dormire l'anima apre le ali e si eleva e c'è una delle cose più che mi fa tagliare il respiro a pensare a quella melodia di Strauss bene non è che Verdi sia tanto più in basso di quella melodia anzi più o meno lì stiamo ed è l'idea di queste povere ritme che qui non hanno avuto niente che gli resta solo quello l'anima che apre le ali e se ne va da un'altra parte ed è quello che canta Aida col pianoforte rende poco perché ci vorrebbero i violini che fanno questi suoni sovracuti è questa piccola melodia solo questo solo questo non ci vuole tanto di più queste persone non hanno più le energie di fare grandi performance vocali stanno morendo i due poveri ragazzi è una donna una bella ragazza ventenne che sta morendo deliberatamente cosa volete che canti? A quelle non gliene importa niente proprio niente potrebbero morire sui piedi proprio non li vedono nemmeno c'è ancora una cosa e con questo chiudo un minuto in tutto questo scontro che secondo me è proprio dilacerante tra i poveri giovani che ai tempi di Mazzini pensavano di avere il mondo tra le mani e adesso sono ridotti al buio a aprire le ali e andare altrove e il potere che neanche li vede pieno di ori e di splendore c'è una persona qui in mezzo che qui non si vede che si chiama Amneris e lei deve vivere poveretta è lei la vera vittima dell'opera Aida la vera vittima è Amneris io l'avrei chiamata Amneris quest'opera non Aida Amneris è lì sopra e non ha neanche più la forza almeno quei due cantano e le teorie attuali dicono che il canto è proprio la massima espressione del corpo della gioia corporale per lo meno loro ricuperano la loro gioia attraverso il canto in un altrove quella povera Amneris neanche quella è condannata a questa terra è condannata a questo mondo e dice solo una parola pace 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 per lo pace per me pace è solo capace di ripetere tre volte la parola pace senza cantare parlando ecco vorrei l'ultima cosa e con questo vi lascio il teatro di Verdi non è fatto di grandi cose è fatto di piccole cose semplici questa è perché ho cominciato questo nostro breve incontro dicendo Verdi ormai è un grande drammaturgo è un compositore affermato un uomo di teatro affermato può fare tutto quello che vuole è nel pieno delle sue energie questo volevo dirvi arriva a questo finale che con dei mezzi minimi di una raffinettezza che solo un uomo con 60 anni dietro può avere con 40 anni di carriera di successo può fare e arriva a fare questo il bello la cosa che mi commuove sempre di Verdi è che finito Aida ancora si rimette in gioco poteva fare il grande artista da vecchio che ha il mondo ai piedi e guardare tutti dall'alto in basso come Ranfis e questo mi conferma la lettura che vi propongo e invece che cosa fa? su consiglio di ricordi si mette a collaborare con un uomo di 30 anni meno di lui molto meno famoso di lui e addirittura si sforza di imparare da lui da Rigoboito allora ecco capisco che faccio adesso un po' il sentimentale però vivere con Verdi non solo per noi italiani ecco vivere con Verdi è un insegnamento morale io vorrei mi piacerebbe tanto di togliere Verdi dall'idea che sia un musicista Verdi non è un musicista è l'intellettuale dell'ottocento italiano ed è quello che lo ha letto nella maniera più penetrante critica e addirittura profonda di tutte questo finale di Aida vi prego se ce la fate l'unica cosa su cui vorrei che mi ascoltaste riposatevi prima ma davvero gustatevelo nota per nota e mi direte se non avete la stessa impressione di vivere con questi poveretti distrutti da un potere che neanche li ha considerati allora grazie della vostra attenzione